L'orecchio sta qui, ok? Questo era un altro schemino che facevo e poi il resto per me è tutto chiaroscuro, tranne questa bocca che mi sta così, questo mi rientra, vedi? E' una faccia schifata, è venuta fuori, va bene. Ci siamo? Vai. Comunque Alessandro, io fino adesso mi sono esercitato soltanto nel fare la struttura, ma non ho fatto il mio... No, non ti preoccupare, poi questa roba che la facciamo, adesso ti manderò anche delle cose su quello, però prima volevo che... Allora intanto tu la struttura le capitano. Mo ti mando questi due e poi, e quindi me li fai questi, perché allora la faccia di profilo finisce a fare il David. Ah, ok. Ok? Sì, quelle lezioni alla fine poi erano buone, sono filmati vecchi, però funzionano. Fatta questa cosa, credo di aver chiarito un po' di cose. Sì, 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 la struttura, diciamo che è ben... Allora adesso ci dobbiamo andare a vedere, però io prima ti faccio fare, prima di fare, ti fare la forma di scorcio, intanto lì ti ho mandato delle tavole, tu studiatele quelle lì, fatte di quegli, prima di fare la faccia di scorcio, la facciamo prima di profilo, poi di fronte e poi in tre quarti. E le facciamo a chiaroscuro. Ok. Su statue. Va bene. Ok? Va bene. E basta così, che altro volevi sapere? Va bene. No, 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 era quella linea lì che mi hai dedicato sulla scelta di quello che mi è più comodo a me. Certo. E niente, poi la struttura del naso, che magari dopo... Dobbiamo studiare una per una. Eh sì, sì, sì. Adesso dimmi... Non si dà la bocca, gli occhi, eccetera. Quella è tutta una cosa da fare. Adesso dimmi come devo agire, come hai detto tu, di fronte, di profilo e di tre quarti e quindi poi andiamo avanti con... Allora, ci avrai... Allora, ti arrivano dei filmati e tu te li vedi e capisci. Secondo me erano chiarissimi. Cioè, c'ho avuto tipo trenta allievi che hanno capito perfettamente tutto. Chiaramente... Quello di arrivare a trentuno. Diventerà il trentuno. E ha detto trenta, tanto per dire... Ma tanti, comunque. No, secondo me sono qualche centinaio. Perché... Insieme anche quelli che venivano a studio e anche quelli ci avevano... Questi modelli qui gli andavano... Cioè, questi approcci qui gli andavano... Gli sono andati benissimo. Vediamoli. Quindi, chiaramente, poi, sono andati benissimo con dei dubbi, eccetera, eccetera, che io sto qui apposta per risolvere, insomma. Certo. Ok? Va bene. Ok, allora questo qui è appena finito. Io lo carico su Dropbox e ti mando il link così te lo puoi rivedere. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti